Il principe Filippo proveniva da un ambiente aristocratico ma travagliato prima di entrare a far parte della famiglia reale. Chi erano i fratelli del principe Filippo? Stasera, ITV trasmetterà l'esclusivo documentario Philip, Prince, Husband, Father alle 21, offrendo uno sguardo raro sulla vita personale del defunto duca di Edimburgo. La vita del principe è stata ben documentata da quando ha sposato la principessa. Elisabetta nel 1947, ma la sua vita prima di essere il marito del monarca più famoso del mondo e meno conosciuta, il documentario ripercorrerà la lunga vita del consorte ed è l'ultimo di una serie di documentari che sono andati in onda quest'anno sulla famiglia reale. La regina e il principe Filippo erano imparentati alla lontana, essendo entrambi discendenti della regina Vittoria, ma si incontrarono per la prima volta nel 1934, quando la regina aveva solo otto anni. . Il padre del principe Filippo, il principe Andrea di Grecia e Danimarca, era figlio di re Giorgio I di Grecia, il cui padre era cristiano nono di Danimarca. Il nonno della regina Elisabetta II, re Giorgio V, era figlio di Alessandra di Danimarca, e anche il padre di Alessandra era cristiano nono, quanti fratelli aveva il principe Filippo. Il principe Filippo è nato a Corfu nel 1921, otto anni dopo l'assassinio di suo nonno, il re Giorgio I di Grecia. Era il figlio più giovane e unico figlio maschio del principe Andrea di Grecia e Danimarca e della principessa Alice di Battenberg. Il principe Filippo aveva quattro sorelle maggiori, le principesse Cecilie, Sofì, Margarita e Teodora. Insieme alla sua famiglia, il principe Filippo fu esiliato dalla sua nativa Grecia nel 1922, quando suo padre fu accusato di tradimento nella guerra greco-turca. Punto. La famiglia fuggì a Parigi, ma i loro problemi non erano finiti poiché sua madre, la principessa Alice di Battenberg, soffrì di un grave crollo mentale, che portò alla sua reclusione in un ospedale in Svizzera. Sua sorella ha sposato aristocratici tedeschi e suo padre si è trasferito nel sud della Francia, lasciando il principe Filippo da solo in vari collegi e con il suo tutore, Giorgi Milford. Grazie a tutti.